Sapete tutti cosa dovete fare qua, vero? Quando parte e vi chiederò se sarete pronti, a quel punto nessuno vi potrà fermare. Quindi scusa Dennis, scusa Fabio, vi romperemo il locale. Anche tu, giù, tu, scusa abbiamo parlato prima fuori, giù, cazzo, voi trovate, voi trovate anche se siete appena entrati, forza giù con noi. Io so che siete pronti. E ci siamo ancora sempre. Anche a la stessa. E... 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 E' un'altra chance Grazie a tutti i miei 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 Mira che si, nobi che si qua non farti Mister system, batteria! Grazie a tutti. Grazie a tutti.